Interruzione delle relazioni sindacali e proclamazione dello Stato ed egitazione, funzione pubblica della CGL Sicilia, insieme con SAP, OSAP, WILP, USPP e FNS CISL, decisa a fare a pieno la propria parte a sostegno della casa di reclusione di Augusta e del personale in servizio. Siamo di fronte a una situazione, spiega il coordinatore regionale Alfio Giurato, che non solo non è migliorata ma è peggiorata, nonostante i tentativi di apertura al dialogo richieste da tutte le sigle rappresentative a livello locale. È il forte disappunto, le organizzazioni sindacali lo hanno manifestato sia disertando un incontro programmato nella giornata di ieri sia attraverso una nota che è stata indirizzata al provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria e per conoscenza al ministro della giustizia, al capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, al direttore generale del personale e delle risorse dell'amministrazione penitenziaria ma anche al direttore dell'ufficio per le relazioni sindacali, ai segretari generali territoriali e alla direzione della casa di reclusione. Emblematico rispetto al grave scenario delineato, aggiunge il coordinatore regionale della funzione pubblica della CGL Sicilia, risulta quanto subito da lavoratori sindacalisti locali, firmatari due lettere sindacali. È stato loro contestato un rapporto disciplinare e quindi avviato un percorso che devasta diritti e libertà sindacali previste costituzionalmente. Da qui la ferma è netta presa di posizione sindacale che dovrebbe culminare con ulteriori azioni più eclatanti e per questo chiedono le organizzazioni sindacali una convocazione urgente con il provveditore regionale.